Eppure mi son scordato di te, come ho fatto non so Nessuno si è scordato di Lucio Battisti. Oggi ricorre infatti il quindicesimo anniversario della sua scomparsa. Il nome dell'artista è tornato alla ribalta nei giorni scorsi dopo lo spostamento delle sue spoglie dal cimitero di Molteno con destinazione Rimini. Le voci poi si sono rincorse, da un lato lo sconcerto dell'amministrazione di Molteno alla notizia del trasferimento, dall'altra la cittadina romagnola che è stata rifugio discreto di Battisti per tanto tempo, in mezzo al tradizionale riservo della famiglia del cantante. Ancora non è certo dove riposerà definitivamente l'artista originario di Poggio Bustone. Le spoglie, partite nella mattinata di venerdì scorso, sono giunte al cimitero di Rimini nel pomeriggio dello stesso giorno. Il viaggio di Battisti però non è terminato. La salma infatti verrà cremata a San Benedetto del Tronto nei prossimi giorni, poi potrebbe riposare a Rimini, a Roma, oppure in casa dei suoi familiari. Come direbbe Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Grazie a tutti.